Un progetto di valorizzazione storico-culturale che parte proprio dal suono del tempo. Cosa significa e in cosa consiste? Ecco, questo nuovo progetto che l'Associazione Cesar Franche dà a Viera quest'anno, che appunto si chiama il suono del tempo antichi organi, consiste appunto in una stagione di concerti per valorizzare questi antichi strumenti che abbiamo su tutto il territorio della provincia della Spezia e della Lunejana. Questo è un progetto che viene realizzato in parternariato con alcuni dei comuni più significativi dove appunto là dove ci sono gli strumenti storici, con le chiese, con le parrocchie, per me è molto importante la presenza delle parrocchie, là dove appunto gli strumenti sono, nelle chiese appunto, quindi la partecipazione di queste comunità parrocchiali che insieme a noi condivideranno questo grande progetto. E naturalmente è importantissimo pensare che è stato strutturato appunto con questi partenariati, con questi comuni, dei quali il capofila sarà appunto il comune di Maissana, nella figura appunto del nostro sindaco Egidio Banti, che è stato il primo che ha con noi realizzato insieme a noi questa idea. Il progetto è stato sostenuto dal bando Cultura in Rete 2016, dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia. Appunto grazie a questo contributo riusciamo a realizzare circa 20 concerti su appunto i comuni, come dicevo prima, i comuni più importanti, nelle valli di Vara, nella riviera Ligure, nella valli Magra e in alcune zone dell'Ulisana come appunto Bagnone e Pontremoli. Il primo appuntamento domani sera a Fezzano, ne seguiranno subito altri quattro, abbastanza vicini come dato. Certo, infatti il primo appuntamento di questo lungo percorso sarà con un concerto d'organo con un famoso organista tedesco che viene appunto di un organista peraltro titolare di uno dei più importanti organi storici della Germania, appunto l'organo della chiesa di Luneburg nella Germania del Nord e terrà il suo primo concerto appunto da noi in Italia appunto domani alle ore 21.15 presso la chiesa di San Giovanni Battista del Fezzano. A questo concerto seguiranno altri quattro concerti appunto nelle chiese più importanti della città con un organista di fama internazionale appunto che eseguiranno musiche di autori del barocco dell'Ottocento e del Novecento italiano.